una austerità cieca che alcuni auspicavano in questa trattativa. La nuova governance economica, così spieghiamo alcune cose che mi pare non siano chiare, prevede una fase transitoria e una fase a regime. A regime, in materia di debito, il vecchio patto prevedeva per i paesi con un debito superiore al 60% del PIL il rientro di un ventunesimo l'anno per l'Italia, cioè una riduzione di almeno il 4% annuo, mentre le nuove regole prevedono per chi ha un debito superiore al 90% una riduzione media dell'un per cento annuo. In materia di deficit, qui gli interroganti sostengono che con il nuovo patto, cito, non è più sufficiente garantire che il rapporto deficit-PIL sia inferiore al 3%, ma il disavanzo per un paese come il nostro deve scendere sotto l'uno e mezzo. E qui improvvisamente mi spiego da cosa derivi il disastro che abbiamo ereditato dai governi Conte in materia di bilancio. Perché chi è stato a capo del governo, colleghi, dovrebbe sapere che per uno Stato membro con un debito come il nostro, secondo i meccanismi del vecchio patto, l'obiettivo non era un deficit del 3%, ma un avanzo dello 0,25%. Quindi con le nuove regole si passa da un avanzo richiesto dello 0,25% a un deficit possibile dell'uno e mezzo, con una differenza tra vecchio e nuovo patto che libera circa 35 miliardi di euro che potranno essere utilizzati per sanità, redditi, pensioni o magari con qualcun altro al governo per un altro anno di super bonus, così magari stavolta ristrutturiamo le maggioni con la piscina. Sempre in tema di regole a regime ricordiamo la previsione di un possibile allentamento delle regole a fronte di circostanze eccezionali e una nuova clausola di salvaguardia nazionale per tenere conto di situazioni particolari che dovessero interessare uno Stato membro. A queste regole si aggiunge una fase transitoria, cosa prevede? Per i paesi con deficit eccessivo, cioè oltre il 3%, un rientro come prima di almeno lo 0,5% strutturale anno, dal quale però, novità introdotta fino al 27%, si scomputano gli incrementi di spese per gli interessi. Per l'Italia significa un guadagno, diciamo così, di circa lo 0,2% primario ogni anno. Dopodiché, finché si rientra dal deficit eccessivo, non c'è rientro dal debito. Una volta rientrati dal deficit eccessivo inizia un percorso graduale per raggiungere l'obiettivo dell'1,5% che per l'Italia comporterà una riduzione dello 0,25% annuo per qualche anno. Sono numeri sostenibili? Io penso che per un governo serio sì, più difficile sarebbe sostenerlo per chi in meno di tre anni di governo ha aumentato il debito pubblico di 250 miliardi. Quelle approvate sono le regole che avremmo scritto? No. È l'intesa migliore possibile a condizioni date? Sì. E sapete perché? Anche perché quando tu ti presenti al tavolo delle trattative con un deficit al 5,3% che è causato soprattutto dalla ristrutturazione gratuita delle seconde e delle terze case e tenti di spiegare che ti servirebbe maggiore flessibilità, è possibile che qualcuno ti guardi con diffidenza e se noi nonostante questa eredità pessima siamo riusciti a portare a casa comunque un buon compromesso è perché in questo anno di governo abbiamo dimostrato che la stagione dei soldi gettati al vento per pagarsi le campagne elettorali era finita.